Pronti? Venite, venite! Lo facciamo assieme? Ok. 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 Buon amore! Facciamo un applauso molto importante al posto Daniela Pagliaro. No? No. Come vediamo? Andiamo assieme. Dove iniziamo? Buon ciò. Buon ciò. Buon ciò. Buon ciò. Buon ciò. Buon ciò. Grazie. Allora, se vi avvicinate un poco, ho la voce un pochettino.